Bentornati ragazzi io sono WazeFlash e questo è un nuovo episodio di CryoFear Allora immagino, abbiamo salvato qua l'altra volta si Ok quindi dobbiamo continuare di qua Ovviamente penso che questa è infatti Abbiamo chiavi? No Questa porta è chiusa Andiamo avanti Che succede? Oddio Bella reazione Oddio cos'è questa roba Eh come si ammazza questo? Ok mi sembra lento Non so come fare se lo sto effettivamente Ok mi sembra stupidissimo Eh ma non gli stiamo facendo niente Ah forse ho capito Vieni vieni No Ah ok Dobbiamo in qualche modo No eh Vieni coltisci No Allora No non si muovono Mi serve la chiave Eh ma non si muovono Ehm No Vediamo Eh facciamo venire prima qua Allora 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 Proviamo di nuovo Pallo stunnarlo Allora Per perdere sangue Perde sangue Ah forse è semplicemente Molto resistente Ah mannaggia Allora Vediamo se Oh Maledizione Allora Dopo vari tentativi Ho capito che dovevo fare Praticamente bisogna tenere premuto Questa manovella Ecco perché Non succedeva niente E ora Non so per quanto Bisogna girarle Allora Annaggia Ah Non so per quanto Tempo Devo girarle Oh No Sono rimasto bloccato Vieni Vieni Quanto Quanto ci vuole Non so per quanto 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 Abbiamo sempre Allora Usiamo la Non so per quanto 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 Siete dei Quindi come Ecco Quindi forse Perché non so per quanto Ok Ok Allora Non so per quanto Quindi salviamo Quindi abbiamo